Sono ancora tutti vivi, sarebbe potuto andare diversamente. Il mio animo da creatura gentile mi porta a irlargire consigli su ciò che accadrà in futuro. No, procedo. D'accordo allora, in questo caso citeremo direttamente il bardo. Il mercante di Venezia, atto secondo, scena settima. Il principe del Marocco estrae una pergamena dall'occhio di un teschio e legge Non è oro tutto quel che luce. Il proverbio te lo dice. Comunque, ora che la situazione è raggiunta a un buon livello di angoscia, immagino che sarà meglio tornare al nostro racconto senza dimenticare che non tutto è sempre totalmente ciò che sembra. O forse non avrei dovuto dirlo. La porta! La porta! Vic, la porta! Junior, retire la tête d'allumage. Cazzo. So? Merd! Beoneura! Oh, Cristo! No, no, grazie. Forza! Sous-titrage Société Radio-Canada Wow. Il est énorme, ce navire. Cet endroit, c'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. Tutti! Laggiù. Ehi! Questo posto è un'enorme trappola galleggiante. Su, muoviti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Porta! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada thyroid attack Cosa vogliono da noi questi stronzi? Merde! Cos'è? Merde! Grazie a tutti. Olson, vi ha il porto ici. Ok, entrate, tutti quanti.